buonasera amici benvenuti su la cucina di bobo chef stasera sto preparando il pollo di campagna con le patate come vedete delle immagini questo è un pollo ruspante quelli di una volta quelli dei nonni guardate che bello l'ho fatto semplice semplice la mia ricetta è pollo ruspante quello di cascino come gli allevava il mio nonno il nonno di bobo chef le patate della valsangone a pasta gialla del rosmarino una foglia di alloro uno spicchio d'aglio rosso calabrese di catanzaro olio extravergine di oliva di quello buono 100 per cento italiano con la lilla fatta di insaporire adesso metti nel forno a 190 gradi per 40 per un'ora dipende dai volsiformi ragazzi poi proseguite la cottura e passate circa 30 minuti tirate fuori dal forno poi lo faremo insieme tirate fuori dal forno e sfumate con un bicchiere di vino bianco se vi fa piacere e rimettete in forno altri 20 minuti comunque se le vostre patate si dovessero cucinare prima della cottura del medesimo pollo ovviamente togliete le patate le petete da parte proseguite la cottura del pollo il pollo sarà cotto completamente al cuore a circa 72 73 gradi quando non uscirà non avendo un termometro sonda ve ne accorgerete quando non uscirà più sangue e non sarà più rosa io faccio cuocere bene mi piace ben rosolato adesso vi saluto vi invito a mettere almeno a 100 mi piace a condividere questa ricetta non mi vedete sentite la mia voce vi esorto a descrivervi al canale di supportarmi e che tutto questo vi porterà al cinquecentesimo iscritto e al millesimo iscritto la maglia l'evento che è già pronta gratis se questa ricetta del pollo arriva almeno a 500 mi piace in una settimana cioè entro venerdì prossimo vi farò vedere la maglia dei 500 mi piace ok adesso vi faccio vedere il pollo ancora da vicino guardate che bello iscrivetevi al canale un saluto bobo chef la cucina di bobo ciao alla prossima a più tardi per l'assaggio e mi vedrete in video ora vi ho voluto spiegare la ricetta del mio pollo guardate che bello già me lo immagino cotto e voi come lo fate il pollo vi faccio entrare direttamente nella pentola guarda che bello è coscia ruspanti pollo giallo ha mangiato mais è quello che trovava in natura pollo che razzolava fuori pollo piemontese non è pollo da supermercato questo è pollo per i tenditori vi faccio un pollo poi pollo non è pollo